Tutti i Santi Il calendario liturgico della Chiesa Cattolica e della Chiesa Ortodossa è chiamata solennità di ogni Santi oppure solennità di tutti i Santi. La solennità del calendario liturgico romano, in latino, solennita somnium sanctorum, cade il primo novembre, seguita il 2 novembre dalla commemorazione dei defunti, ed è una festa di precetto. Prima delle riforme del Papa Pio XII del 1955 aveva anche una vigilia e un'ottava. Musica. Le quattro stagioni. Di Antonio Vivaldi. L'autunno. Progettazione e creazione. Maestra Monica e professor Salvatore Francesco Toscano. Bibliografia, le informazioni e le immagini sono tratte da Wikipedia o altri siti. Ciao a tutti, arrivederci, ai prossimi video vi aspettiamo. Fine.